E' morto! Lanciamola finita! E' morto! Mi sta trovando poco la zeta! Basta nada! Sotto tiro! A fuori! Sotto tiro! Lascio una granata! Granata in fondo! Bomba in arrivo! Vado in captura! Non colpita! Deve bruciare! Allontanatevi! Pulisci! Sotto tiro! Sotto tiro! Sotto tiro! Sì! Vieni! Vieni! Sì! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Jacob, dovrei essere vicino al deposito. Tu sei già lì? No, no, no. Un distintivo di grado in un ordine militare. La trinità. No, no, no. Perché ci hai messo tanto? Ho temuto il peggio per te. Non stavolta. Grazie per avermi fatto uscire. Muoviamoci! Possiamo passare da là! Andiamo trovati! Non stavolta. No stavolta. Capone! 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 Oh! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bevi questo. Ti farà bene. Avresti potuto lasciarmi nel fiume. Tu che avresti fatto? Ci avrei seriamente pensato. Chi ti dice che io non l'abbia fatto? Allora, perché corri tutti questi rischi per venire qui? Per la sorgente divina. So quello che stai cercando. Ma vorrei sapere perché. Quando ero piccola, ero sempre sola con mio padre. Era archeologo anche lui. Negli ultimi anni era... ossessionato dalle leggende sull'immortalità. ovviamente nessuno gli credeva. Me compresa. L'ultima discussione... fu un litigio. Lui... si è tolto la vita. Pensavo di averlo accettato. È successo qualcos'altro. Ho visto cose... che avevo sempre creduto impossibili. È cambiato tutto quanto. Ho capito che mio padre aveva ragione. È morto solo. E a pezzi. Ma è morto per qualcosa. Quindi credi che la sorgente divina esista? Onestamente non lo so. Ma se ci fosse... anche solo un fondo di verità... devo scoprirlo. Eh... andrebbero fatte... ricerche... e studi. Questa cosa potrebbe cambiare il mondo. Non può essere tenuta nascosta. I cambiamenti non sono sempre positivi. Vorresti che la Trinità scoprisse il segreto dell'immortalità? Certo che no. Quindi non ti chiedo di abbandonare la tua ricerca. ma di modificarne il tragitto. Unisciti a me e alla mia gente. Aiutaci a sconfiggere Constantine e la Trinità. E una volta fatto questo? Potrai lasciare la nostra valle. Ma saprai di aver fatto la cosa giusta. No. Mi dispiace. Non posso farlo. Non puoi? O non puoi? Combatterò la Trinità con voi. Ma il mio obiettivo non cambia. Se mollasci adesso... Sentiresti di avere deluso tuo padre? Non solo lui. Ho bisogno di risposte. Jacob, ho bisogno di capire. Te ne vai. Ora devo pensare al mio villaggio. È lassù, sul passo. Ha un giorno di marcia da qui. Ma c'è una scorciatoia nella vecchia miniera di rame. Tu riposa. Tornerò presto. Mi senti? Mi senti? Accidenti. Ma dov'è? Vedetta, abbiamo visto la nativa nella vecchia segheria. L'abbiamo perita ma sembra che abbia piazzato delle trappole lungo il perimetro. Finora c'è stata una sola vittima. Faccio un giro di rastrellamento. 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 Siamo stati dei pazzi. Pazzi, superficiali e arroganti. Credevamo di poterli fermare, ma gli uomini dell'Armata Rossa sono molto più numerosi di noi. Hanno armi molto più potenti e continuano ad aumentare. Io e molti dei miei compagni siamo stati catturati e costretti a lavorare nelle miniere della nostra montagna. E' solo questione di tempo prima che scoprano il nostro segreto. Quando succederà dovremo essere pronti. Questa è un giro. Questa è la nostra montagna. Questa è un giro. Questa è un giro. Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 È molto battuto. Grazie a tutti. 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 Nadia, è vero? Grazie a tutti. 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 Tempio antico. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forse posso farlo oscillare? Forse. Grazie a tutti. Oh, diavolo. Non servirà a nulla così. Il contrapeso. Se solo riuscissi a sbloccarlo. Il contrapeso. Se solo riuscissi a sbloccarlo. all'interno. Oh, ma che c'è la tua vita? Oh, le passiamo. Oh, la chance di essere l'alimentazione. Oh, la quale. Oh, i raccogli. Oh, la famezza? Oh, la quale! Oh, la pace! Grazie a tutti. 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 Nadia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo subito. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. finché non ho incontro. e a tutti.